Sì, sto cosiddetto. Grazie a Grandorair 2. forduraino 1. merca è un ragazzo di motardone è un ralicace Padmé e Jedi Trang Ray ma per esempio i caratteri come Yoda non c'è nulla ma non vediamo Non lo vediamo, non lo vediamo. Ma non lo so, non lo so. L'effetto è l'fk. Quindi la corsa l'effetto è l'effetto. E' l'effetto è l'effetto. L'effetto è l'effetto. L'effetto è l'effetto. Vette è l'effetto koffercento. E' il proprio il nostro più forte, ma penso che non mi metto, ma un padmai può entrare. Ma cosa che vanno i problemi? Il 5-3 di Jedi, il canobine e padmai, per questo credo che potete entrare. Ma non è molto più. Ma è una questione. Sì, adesso proviamo a randosi di randosi di randosi di randosi, perché non si può essere a di randosi di randosi. Ma non si può essere più a randosi di randosi. Quindi proviamo a randosi di randosi di randosi. Quindi adesso proviamo a veder. Sì. Sì, potremmo ancora una tarca, non sarà rossi a lì a fogghi miattà. Un po' di spavano, non lo spavano, non lo spavano, non lo spavano, ma non lo spavano. Sì, non lo spavano, non lo spavano, non lo spavano, non lo spavano. è un blocco io da io da io da io da io da io da io 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 le io 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 cioè ce qualcosa sicuramente bisogna capire a 53 c'è il risultato Ci sono oggi con me in mezzo di mezzo molto giỏi e io i più sono abbigli poi provo Elemente Eccolo Kenobi.. Il Padme team. Quanto poter. E non... Bè�� Anina. Ah, spenniglio Una cosa che decide che i punti Non è che non è finito, non è ancora più bene, ma non è finito, ma non è finito. Ma non è finito, non è finito. Ero il rischio Perfetto Perfetto Quattro Prostituò Quattro 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 Meg lehetett volna valók járni, hogyha nem sikerül Most nézzük hátra, mit tett le A gép Hát jó Érdekes Az össze nem szokott csapatok el a nehezebb Non ho voglio di fare l'offensità, ma non ho capito che mi va sceglie. Poi, voglio provare anche la R5 Skyloma. E' questa potrebbe che è molto interessante, ma non è molto più attivo. e questo è l'assistente e non voglio che non voglio farlo e non voglio farlo e non voglio non voglio che questo è meglio ma questo è un eseroso e se troppo il team 1, e se faccio il fronte di attivarmi un' Axiomun. C'è un'escritto! C'è un fronte, qui c'è un'escritto. Qui c'è un'escritto. C'è un'escritto. E' una cosa interessante. Semponimbolo di me and 그게 a B-e' At새 marco me shalten, a nostalgia me viene. Aí un basso team me viene da il BT-e. Ad새 marco, semmo la c'll'e, semmo la basso. Il semmo è un assetto è un oldrap, A gold repack poter 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 le poter le poter le poter. Sì, poter 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 le poter i l'ultima kombi. Ugye Bastille, l'Eades, Zabar, e il missione. Ah, ma il l'ultima 54 banner. Ah, ma non vediamo. Ma ho pensato che il giro il giro di giro di giro di giro di giro di giro. è un denger, è un pozzo e' un pozzo molto più forte a prima cosa a quattro e' un pozzo e' un pozzo e' un pozzo e' un pozzo e' un'escrita, molto bene proviamo a blocco a loci e' un'escrita e' un'escrita e' un'escrita Igen, bubamma rajta. Confiriz, non boj, 54! Mostanabban meg vagyok elégedve a BH-Mból. Pedig... ...nagyon log bírosek. Hmmm... ...lehet... ...hogy most kínem nyomnom... ...a... ...fendi meccseket, ...hogy megnézzük, mi talpott. Zadda Train Rain-nak még nem is néztem meg a modellation. Speed, tutto ciò, tutto ciò. 2,57% è molto. Non c'è una cosa. E' una cosa più importante. Prendiamo il trio. Abbiamo un fornito. Rai tommo Hmm... Nehéz... Meg provo a Padmeer Damar polni... Ahah... Cannabine ne zavoljunk be Eddig... Ugyanak vola, ahogy akartam Jolene rai tommo a Healy moneta sajnos Ugye amit Jedi Trangere ad Padmeer kisszel... Nagyon jó Eppure innantel kessegni Csik dolgozni Vissza a... Igazából van összegetett banereket Nagyon jó Nagyon jó Kis Protection vissza Nagyon jó Nagyon jó Adjunk a Vichelinak Kis Protection vissza Adjunk a Vichelinak A Vichelinak Nanó C aconteceu Ilyen Chop A Vichelinak Mag式. Mag beleza A Vichelinak Ben Tis kör Sì! è un'egyoso caratter hm... mi va meglio? le potete fare un'egyata le potete fare un'egyata se potete vedere se potete vedere e quindi i'egyata ma non è come stai ma per il Hands il dimensione ma per ilatte non mi piace per nulla per nulla quello che si volesse per le Spire non 4 9 rispito le rispite cosa Questo è una una c'è l'espo bene e mi è un e non 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 Próbaljok meg ezzel Próbaljok meg ezzel Non controll Akkor ma fejezzik is szerintem be Ez lehet, hogy felesleges volt Próbaljok meg Igen, nagyon jó, tenacity van rajta Szerencsére ugye nem tud rival volni A bevesztegetett bonárt Visszakéne toltani Mindjárt Basic Basic Fájnos az nem fog menni 53 Céles Igen Nekem még nem annyira Erős Ugye, hogy azt már mondtam Egy előző giában Sekály után Ő is Nagyobb szerepet fog élvezni Fejlesztéstelen De ez egy Még Hát még Még odébom Fölintre megpróbálom megtartani a Bastilla Giovanni Bastilla Mission-val úgy závárt Szóval szerintem erre mehet egy Hát egy trial hk És szerintem még egy Hát Nihiluszt nem akarok Elpazarolni rá Vagyis Lehet, hogy inkább Nem is Nihiluszt Mert Még fönt jobban jöhet De igazából egy rossz csapattal Sem kéne neki menni Hát És legyen Én azt mondom, hogy inkább Ezt a területet próbáljuk megklírelni Mint hogy Legyen valami Baj Hogy így nem tudom klírenni Ugye, hogyha A terület full clear Akkor így sokkal több pontig kapunk Azt mondom, hogy megpróbálnám ezt Most egy Bastilla-jokkal És megnézzük, hogy Mit eredmény ez Jó, bát Hát Hát nézzük Kezdjük mondjuk Rexel Egyből Tenacity áp van rajta Nagyon Tehát ez Nem jó Mis sem való Próbáljék meg Igazából ezt nem rá kéne A blindot Szóval ezt megtartogatom Viszont rájmátok a most Vett, hogyha bevendje Sajnos nem marul a Tenacity áp van rajta Megpróbáljuk Igen, nagyon jó Rájmát a blind Egyből A Tenacity áp van sajnos Nem Nem megy fó Hogyha Rexel már ki tudnám kritni egy evő blokkot Hogy valamit esetleg assa Hát ez egy Igen Ez egy nehéz mugs És Mint ahogy ezt És terveztem És ki is száll a buliból Próbáljuk sztanolni Az legalább megvan Be is tauntól Áh Szörnyű Ez egy Annak ellenére, hogy Egy össze Tákó csapat Elég jó És ki is kapok Hát Igen Itt Itt igazából A A nagy relik Az Az bitte az egészet De Megpróbálom ezt még clear élni És Háca Itt viszont maradt még egy Ez szerintem fülösleges lenne rá Használni Lehet, hogy még Geo-k Geo-k itt jól jönnének Mondjuk egy Hát Azon gondolkodok, hogy több csapatból kéne kivinnem A fönti teamet És ezért Akarok Erre gyengébb csapatot kell pazarolni Azért teszem be a First order tight Mert ő Legalább nagyat üt Szóval kell egy damage deal Szóval Hát mondjuk adjuk neki Erről mondjuk nem gondoltam, hogy ennyiből kiviszi Vajon már? Jó Kodamos meglepetés A A Plotown Ugye Itt igazából a banner az annyira nem észgat engem És az, hogy ki legyen ütve És hogy a fönti szektor is Mert hogy ő Full clear elni nem fog tudni Egyértelműen Szerintem egy csapatot sem fog tudni kivitni Maximum Még a hajókot Igen, úgyis sajnos nem töltnek vissza Protection-t Így Brodel feléd nélkül Így viszont kiviti Nagyon jól Rajta van a fear, hogy nem tud aszisztolni Sajnos elveszítjük De A meccs legalább Megvan Hát 50 banner Nem életem legnagyobb bannerja De úgy zajlotta, hogy Akartam végül is Nyertünk Hát igen És Maradt még a mumus Ezt Megpróbálhatjuk Még több csapattal Szerintem Szerintem Megpróbálom csak meggyengíteni És Valaki Togye kivitni Clathliddal Még egy Egy Johanna És Egy Nikrus Már Hát Őt Legalább így Megpróbálnám Hát Ez Az olyan sikerül Hogyha nem Akkor még mindig ott vannak a damage dealerek Esetleg Hát Itt ugye próbálok Támaszkodni Az Instakirra Ugye Hílusnak Megnézzük Hogy menják Hogy Megbeteljük A Grózák Az nem Jó Giovanninak kína jönni Nem Baj És Az a lényeg Hogy Híluson Csökkentsük A cooldown A Derexre Mint Fizer Rátesszük Ugye Az izolálítót Nem tudtam untolni Ő Annyira nem tud itt bezavarni Próbáljuk ebből létté blokkolni Nem sikerül De általán összetidám rajta van a szürenesére Most már csak 3 kör Az Instakirra Csak 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 És nem bírta ki Ez Sajnálatos Csak 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 Sì, che non è così, è una cosa che non è così, ma non è così, è una cosa che non è così. Sì, non è così. Sì. 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 Da la non. Sì. 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 Tant principles come out there. I know that I can chat the converser used into the group. Eccolo e poi il tonkino è il montato e ho fatto 3 metzioni e ho fatto un'luminaria e poterlo un'luminaria e poi il fraccio è il fraccio e poi il fraccio è il fraccio ma non è vero che non si tratta di da damage di live ma proviamo a damage over time non è vero non è vero un'existe per la quattro ma non è vero non è vero è vero che non è vero non è vero ho fatto il Kanderos un bel l'acquera il Kanderos 13 damage over time il Fracture Il problema è che il risulta che il risulta. Molto bene. Il risultato. Eccle... ... non vedo che il risulta. Non c'è più. Molto bene. Molto più damage over time. E questo è il gioco. E' il gioco! Puh! 19 banner è il nostro per la vita. Ma... ...ilci a 4 metri per il 1. ...euh... 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 ...plána, che è l'affa... ...d'e... ...szeretci meggiorno azzine... ...azenamit. ...d'e... dura... ...soc protection... ...plusz' a Repubblic, ...ha ne troppo... ...combo... ...legebbis ellenom... ...gye Rexet... ...e... 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 Ma non è solo il bivore, ma non è solo il target, l'akosa, il bivore... ...è un bel ente... ...e o aion, ma... ...e un'fena, non è solo il defensa, che si troppo... ...a che si troppo l'avata... ...è un'fena, non è un'fena, ma non è un'fena... ...e un'fena, è un'fena, non è un'fena... Sì. Ma... ...ezz'è molto molto bene E' C'è stato un pozzo Sicurato Ci sono le così Che è il fatto E' più di senso C'è abbia più l'allare Mi sembravo E' molto bene Ci sono Ci sono Mi sembravo Mi sentenza Sì ... ... ... Grazie mille! ma anche che i 4 matchi, sono stati molto leggeri, ma sono stati molto leggeri, e anche i stessi stessi, e anche i stessi stessi stessi, per quanto riguarda i miei caratteri. Inizialmente, questa è stata un'oggiata, che era un'oggi keilo solo, ma poi inizia la prossima e la prossima la prossima la prossima non è ancora non ci sono ma ma la prossima non è la prossima a l'appetite, che si ascolto.